Logical System. Software and Hardware Solutions. Digitalizzazione, innovazione, crescita per il successo della tua impresa. Con Microsoft Dynamics 365 Business Central, pianifichi, gestisci e controlli le tue attività da un'unica soluzione. Sarà in grado di ottenere processi semplificati, tempi ottimizzati, decisioni perfezionate, crescita rapida. È una soluzione gestionale completa per piccole e medie imprese. Efficiente e personalizzabile in base alle esigenze dell'azienda e del settore professionale. Dal food alla GDO, dal manufacturing alla distribuzione, dal fashion ai professional service. Oltre 6.000 aziende in Italia, 160.000 in tutto il mondo, già utilizzano Microsoft Dynamics 365 Business Central. È più di un software gestionale tradizionale. È un vero e proprio sistema integrato, all-in-one e su misura. Microsoft Dynamics 365 Business Central consente la gestione della catena di distribuzione e la gestione operativa dell'azienda, ovunque ti trovi. L'integrazione dell'area contabile e dell'area commerciale, navigabili in condivisione. L'organizzazione delle informazioni dell'azienda, sia gestionali che relazionali, sfruttabili in ottica strategica e collaborativa. La forte integrazione con il mondo Office 365 consente di unire persone, processi e sistemi, ottimizzando la produttività e l'efficienza delle risorse. A seconda delle esigenze e preferenze aziendali, Business Central è utilizzabile on-premise, nella propria infrastruttura hardware o software. YAS Pass, su un cloud a propria scelta. SAS, su Azure, come servizio gestito direttamente da Microsoft. Microsoft Dynamics 365 Business Central, per un business flessibile, che si adatta al cambiamento. Logical System, partner certificato Microsoft. Dal 1983 al tuo fianco, per crescere insieme. Real-time software, real-time support. Macbeth CADE Grazie a tutti.